La scuola di formazione teologica è stata aperta tre anni fa dei Vescovi della nostra metropolia per creare un percorso di formazione comune ai laici. È aperta a tutti e non ha costi di iscrizione. È strutturata secondo la cosiddetta didattica mista, in presenza e in diretta streaming, per cui ci sono lezioni che si svolgono a Fano o a Pesaro, in presenza, e in aree molto più lontane, in aule attrezzate, dove ci sarà presente anche un tutor che aiuterà i partecipanti nella comprensione e nell'approfondimento delle lezioni. È composto da quattro annualità, le prime due riguardano i cosiddetti corsi introduttivi alla formazione e le altre due i corsi di completamento del percorso. I giorni in cui si tengono queste lezioni sono il martedì e il mercoledì, dalle ore 19 alle ore 21. C'è stato un filosofo di nome Pascal che, nella notte in cui è diventato cristiano, perché la sua esperienza l'ha portato proprio in un passaggio evidente, fatto in una notte, ha scritto questa frase. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo, non il Dio degli scienziati e dei filosofi. Questo ci fa capire che l'esperienza cristiana nasce non da un'idea che è universale di tutti, ma nasce da una storia, quella di Gesù, quella di un popolo, quella di Israele. E allora la teologia che cosa fa? interpreta la parola di Dio, che è un evento, qualcosa che è successo duemila anni fa, nel linguaggio degli uomini di oggi. E cerca nella parola di Dio l'indicazione, la luce di Dio per i problemi e le domande dell'uomo di oggi. Ognuno di noi si fa delle domande, cerca di rispondere a quelle che sono le tante, tante questioni che la vita ci pone. La teologia cerca di aiutare l'uomo di oggi a capire come Dio risponde alle nostre domande, come tradurre la parola di Dio per gli uomini e le donne di oggi.